Si è chiuso con cinque condanne e due assoluzioni il processo di secondo grado celebrato in Corte d'Appello a Palermo per una serie di false attestazioni di invalidità scoperte ad Agrigento con l'inchiesta alla carica delle 104 risalente al 2014. Corruzione, falso e truffa aggravata e i reati contestati a vario titolo agli imputati. Nell'inchiesta erano coinvolte parecchie persone tra cui medici, funzionari pubblici e appunto pazienti i cui destini processuali si sono divisi, viste le diverse scelte di rito, le archiviazioni e i patteggiamenti decisi in passato. Da un lato c'era chi rilasciava certificati falsi, dall'altro chi ne beneficiava per ottenere pensioni o trasferimenti di lavoro in sedi ambite. Per alcuni capi di imputazione è stata anche dichiarata la prescrizione, essendo datati nel tempo, mentre un'imputata è deceduta nell'emore del processo d'appello. Tra gli elementi di prova decisivi le immagini registrate dalle telecamere, quando i presunti falsi invaliti si recavano nella sede della commissione in ambulanza o in carrozzella e poi si allontanavano a piedi. Secondo l'accusa sarebbero stati due i gruppi a mettere in piedi la presunta maxi truffa, in cui era stato messo a nudo il ruolo di alcuni medici compiacenti, che accettavano denaro a volte per somme modeste in cambio di certificazioni di malattie di lieve entità o anche superiore a quella reale.